e ciao a tutti amici vi faccio vedere come ho realizzato gli occhiali con la riflessione in bluff title innanzitutto sono partito da un modello 3d costruito in blender sono entrato dentro e non mi servivano le lenti perché a bluff title non posso mettere il materiale su 3d poi dovevo mettere anche l'effetto eccetera quindi sono andato a selezionare la lente quindi seleziona linked cancello la lente quindi cancello le facce stessa cosa anche di qua vado a ripetere e cancello la lente ok adesso ho questo oggetto 3d eccolo qua lo vado a salvare soltanto che questo qua è un modello object per convertire da object o altri formati 3d in formato che accetta bluff title che è un formato dare x vado a utilizzare acutrans che ho già recensito quindi potete andarlo a vedere quindi faccio apri apri nuovo e vado a selezionare i miei occhiali quindi apro e attendo che il modello eccolo qua e così si presenta all'interno di acutrans a questo punto lo vado a salvare non devo fare nessuna operazione faccio salva come e qua vado a selezionare il modello accettato quindi direct x asci e scrivo occhiali e lo salvo io l'ho già fatto e adesso andremo a importarlo in bluff title in realtà vedete cosa ho fatto un altro esperimento oggi quello che state vedendo è l'occhiale con riflessa la webcam all'interno adesso lo faccio ruotare questo è in tempo reale mi vedete eccomi qua che vi saluto e sto mappando direttamente la webcam all'interno delle occhiali io sto muovendo buff title in tempo reale ma andiamo a vedere una volta convertito come si fa quindi eccoci qua da zero vado a importare un modello 3d quindi clicco qua e andrò a cercare vedete che mi viene visualizzato occhiali che è il modello occhiali punto x direct x non il file x quindi apro devo attendere un attimino perché buff title è un po lento a caricare il 3d e eccolo qua quindi qui ho la posizione e l'oggetto la rotazione qualsiasi cosa perché questo qui adesso è un oggetto tridimensionale importato in bluff title ovviamente da qua possiamo andare a segnare delle texture tutte le cose che desideriamo facciamo una prova con una riflessione ecco qua ho colorato il mio occhiale ho possibilità di inserire la luminosità dell'occhiale il colore e la riflessione del colore vedete che spostando faccio riflettere quella texture che ho messo in varie posizioni però non abbiamo le lenti se vado qua guardate vi faccio vedere con un altro materiale un po strano ecco qua tutto colorato otterrò un bel paio di occhiali super moderni super colorati ecco vedete cosa riusciamo a fare poi potremo mettere anche proprio il materiale originale che abbiamo ad esempio disegnato in blender guardate che belli questi ok proviamo a fare questi adesso il problema erano le lenti le lenti cosa ho dovuto fare le ho ricostruite perché io non posso usare un'immagine che sia ritagliata così perché su un'immagine non posso più mettere una una color map o come avete visto che stavo giocando adesso con la webcam perché se ho una trama come vado a mettere la color map si cancella la trama quindi l'unica è utilizzare un livello eps quindi bisogna andare a disegnarci il livello eps qui in pixel angelo ho disegnato con questa penna la lente vedete questa lente e ora la vado a esportare ovviamente per fare la forma come ho fatto ho fatto la foto ho fatto un'immagine di quell'occhiale l'ho importato e ho ricalcato sopra ora lo vado a salvare come solido eps chiuso allora ritorniamo in bluff title vado a aprire un livello eps e quindi dovrò andare a caricare la lente che abbiamo salvato eccola qua si riconosce e verrà fuori questo pasticcetto qui che sarebbe la nostra lente come vedete è a tutti gli effetti 3d tant'è che qua dobbiamo andare a assegnare uno spessore molto sottile il difficile è adesso questa lente va proprio incastrata qui sull'occhiale allora bisogna fare così creiamo un contenitore in questo contenitore andiamo a prendere il livello dell'occhiale ecco anche qua tutta la difficoltà andiamo a unirlo quindi andrà più in fondo perché sapete il contenitore va a 500 lo portiamo avanti cerchiamo magari di avere tutto azzerato all'interno l'occhiale più dritto possibile poi prendiamo la nostra lente andiamo a fare la stessa cosa unirla al contenitore controlliamo che sia all'interno del contenitore occhiale lente e adesso andiamo sulla lente la ruotiamo correttamente rispetto all'occhiale e andiamo a inserirla è proprio un montaggio di gli occhiali vedete qui e adesso la grande difficoltà è l'allineamento perché l'occhiale non è perfettamente non è piatto insomma quindi se non inseriamo bene la lente si vedrà vedete che infatti viene fuori un pochino e qua è tutta questione adesso io non voglio annoiarvi e anche dobbiamo regolare la grandezza della lente per farla rientrare al suo posto ok una volta fatto questo procedimento con la lente andremo adesso lo faccio così per farvelo vedere a duplicare il livello della lente lo andiamo a spostare e semplicemente lo andiamo a ruotare di 180 gradi quindi in maniera che venga la sua immagine riflessa se ora prendo il contenitore che dovremo impostare anche come punto di rotazione perfettamente in centro perché altrimenti va via ruotando appunto lo che vedete che la lente segue bene quindi qui abbiamo il nostro occhiale adesso cosa dobbiamo fare allora se vogliamo semplicemente far riflettere ad esempio un'animazione che abbiamo già in bravo title possiamo andare ad esempio usare una color map per caricare questa animazione all'interno della color map e metterla nell'occhiale come si fa facciamo aggiungi livello color map entriamo nella color map e premiamo ctrl m e andiamo a caricare un animazione proviamo con questa di natale vediamo cosa succede vuoi unire si adesso qua dentro la lente vado sulla lente e vado a selezionare la color map ecco qua all'interno ho già l'animazione faccio la stessa cosa con l'altra lente vado a selezionare la color map ecco qua come viene riflessa l'immagine dipenderà dal tipo di effetto questo qui che abbiamo inserito ora questo è un refresh map per cui rifletterà come si trovasse all'interno di un mondo se vado a spostare il contenitore eccolo qua vedete che io vedo molto molto grande quello che c'è all'interno attenzione che la color map avrà una sua risoluzione adesso bassissima vedete se qua andiamo a cambiare risoluzione e impostiamo una risoluzione molto alta avremo la risoluzione dell'animazione interna molto bella questo è nel caso appunto di far riflettere come fossero degli occhiali a specchio poi ovviamente come abbiamo detto qui adesso si vede solo parte dell'animazione perché abbiamo messo questo effetto se ne carichiamo un altro ad esempio come cubemap vedete che lo vedremo ancora in un altro modo proviamo a farlo anche nell'altra lente cambiamo l'effetto mettiamo come cubemap e vedete che se adesso vado a spostare a ruotare il contenitore ho ancora una cosa diversa io cosa ho fatto ho inserito l'animazione di fondo l'ho salvata senza gli occhiali l'ho inserita nella color map e poi all'interno della color map come vedete noi abbiamo una telecamera se muoviamo questa telecamera vedete che possiamo andare inquadrare più o meno cose all'interno dell'animazione questa telecamera anche il campo visivo vediamo se vedete possiamo allargare il campo visivo eccetera quindi vedrà più o meno quello che c'è all'interno se premo f2 come abbiamo visto l'altra volta questo è quello che vede la color map ora un quadrato perché io ho messo la risoluzione della color map che non è una risoluzione video proviamo a fare 1980 1920 scusate per 1080 ecco vedete che ora viene c'è una scritta new che è quella che compare normalmente sulla color map e la cancelliamo e ecco cosa sta vedendo in questo momento la telecamera se andiamo a spostarcela vediamo qual è si è questa qui ecco vedete che più io allargo e più qua dentro avrò nell'occhiale ecco qui che si può vedere la scena vedete adesso è rovescia la scena inquadrata ma basterà semplicemente ruotare la camera per avere la scena dritta eccola qua bene quindi ho fatto la stessa scena che avevo fuori all'interno della color map e ho leggermente zoomato la telecamera in maniera in maniera che sembrasse che sull'occhiale fosse ingrandito ecco questa è l'animazione vedete questa è la scritta che c'è qui fuori con l'animazione fuori questa è l'animazione che è stata ripresa dentro e vedete che ho inserito la telecamera che vede rovescio così sull'occhiale viene giusto vediamo quando vado animare prima esce la scritta l'ho fatta semplicemente in avanti vedete che questa dentro sta ferma perché proprio tutt'altra animazione non può muoversi assieme a quella fuori poi quando l'occhiale si alza ecco quella che stiamo vedendo qui dentro se andiamo a cliccare su una lente e guardiamo vedete che è la color map e la color map entriamo nella telecamera eccola qua se sposto la telecamera vedete che sposto il riflesso di ciò che sta vedendo il mio occhiale infatti se sposto la posizione vedete che si sposta anche sull'occhiale adesso qua la risoluzione era un po' bassa però bastava sulla color map era 1920x1080 ma probabilmente viene molto ingrandita quando viene mappata sulla superficie della lente quindi magari possiamo alzarla un pochino per andare a appunto ridefinire la risoluzione quindi bisogna trovare un multiplo magari possiamo impostarla 2k ad esempio così non c'è la segrettatura ecco vedete adesso ho alzato ho fatto esattamente il doppio 3840x260 tanto bastato non ha problemi è solo un po' di memoria e computer vedete che ora è molto buona ricordatevi che inoltre avete qua la qualità adesso la mia è già impostata alta vedete ho la qualità eccellente se voi l'abbassate vedete malissimo se voi mettete molto alto avrà infatti vedete che bene che si vede questa qua sotto è perfetta e adesso anche all'interno dell'occhiale quindi poi qua dipenderà vedete che adesso non è segrettata come prima e in questa maniera possiamo sistemando bene simulare che l'occhiale stia appunto ingrandendo quello che c'è ovviamente anche quando l'occhiale ruota e quello è bello di questo che non è come la riflessione che abbiamo fatto prima ma quando l'occhiale ruota e passa sopra si vede appunto la scritta ingrandita qua sarà solo da far combaciare questa animazione con questa perché altrimenti vedete che magari l'occhiale passa e non sta ingrandendo quella lettera quindi basterà sistemare la telecamera all'interno della color map in posizione che corrisponda alle lettere ecco così ad esempio dovrebbe essere giusto questo è la T poi questo sta veramente ingrandendo tantissimo l'occhiale per cui basterebbe meno se volete ad esempio fare una lente tonda è tutto molto molto più semplice perché lo potete fare anche con cose di Bluff Title prendo un EPS a cerchio dovreste già averlo dentro un EPS a cerchio e qui posso appunto andare a mettere come ho fatto prima la color map quindi vado qua dentro metto seleziono la color map e qui ovviamente devo mettere anche il tipo di riflessione sul cerchio sul cerchio posso mettere anche già un bordo così ho già anche fatto l'effetto metto il bordo non questo tipo ed ecco qua stessa cosa di prima ho messo un bordo sulle EPS di questo tipo così perché questi vanno a riempire anche la zona dove sarebbe la camera se mettete di questi vi viene il bordo attorno ma poi potete fare come prima che andate a comporre eventualmente un contenitore, l'oggetto, gli mettete il manico eccetera il manico può essere una semplice lettera fatta ruotare sul proprio asse e vi viene il manico ecco qua la lente e possiamo spostarla e vedete che possiamo simulare che ingrandisca adesso dopo dipende solo da come si imposta ovviamente adesso c'è un cambio molto forte di luce perché all'interno della color map c'è troppa luce possiamo andare a abbassare la luce a regolare la telecamera all'interno della color map che sia più buia e soprattutto è importante sul EPS andare su FX light factor e abbassare vedete il fattore di luce qui però è molto carino perché possiamo dare anche la specularità e vedete cosa succede con la specularità il mio oggetto sta riflettendo anche una luce che ha interna quindi così muovo l'oggetto però l'oggetto può anche eventualmente ruotare vedete e quindi è molto simpatico esiste anche già un effetto di ingrandimento ma questo effetto che si carica qui è esattamente questo effetto che trovate su media f filter magnifique glass questo qui non fa altro che avere una prima texture cioè un disegno e un secondo disegno già ingrandito lo dovete preparare con programma fate il disegno lo ingrandite e quando passate con appunto l'oggetto questo effetto che ha questo effetto mi sembrerà una lente di ingrandimento ma in realtà sarà tutto piatto per cui non vi consiglio di usare questo effetto già pronto questo effetto già pronto va bene che ne so se fate una foto e ci passate sopra una lente allora sembra che si ingrandisca però così come mi sono inventato io secondo me è molto molto più simpatico anche perché ci permette di entrare all'interno della color map e muovere gli oggetti l'unica cosa che non ci permette è muovere l'oggetto fuori assieme all'oggetto dentro della color map ma questo vi dico un trucco che è quello di creare l'animazione prima cioè cosa vuol dire adesso qua andrò a fare confusione vediamo questo io faccio questo oggetto ottica che viene avanti ruota fa la sua animazione lo salvo lo richiamo l'animazione all'interno della color map così questa animazione avrà già il movimento così quando la vedrò ingrandita attraverso le ps avrà anche quel movimento quindi la vedrò ingrandita e con il movimento e non mi dovrò preoccupare di spostarlo in successivo tempo quindi fate la vostra animazione con i movimenti e tutto quanto la salvate create una color map caricate l'animazione con ctrl m all'interno della color map andate sulla telecamera all'interno della color map zoomate un po' inserite il vostro eps e una volta inserito il vostro eps andate qui e accendete la color map dove all'interno c'è l'animazione poi a seconda dell'effetto che mettete qua ottenete solo un riflesso di quell'animazione o qualsiasi altro effetto che troviate qua o di materiale spero di essermi spiegato bene comunque in ecco vedete cosa succede se infatti l'oggetto va oltre che continua ad avere l'ingrandimento ma è dietro la scritta bisogna ovviamente tenere la lente l'occhiale o cosa davanti la scritta non può andare dietro dicevo per concludere questo tutorial magari che fa un po' di confusione in descrizione vi lascio la mia animazione così la potete studiare vi ringrazio ciao alla prossima